È il mio make-up preferito in assoluto, quindi ricreiamolo insieme. Per la base utilizzo semplicemente un primer che vada ad illuminare il tutto. Assolutamente correttore per correggere l'occhiaia, sia nella parte interna che qui. Se come me volete più coprenza perché avete tante occhiaie, lasciate asciugare un pochino il correttore e poi andate a stenderlo con un pennello, non con la spugnetta perché si giuccia un sacco di prodotto. Passiamo agli occhi e utilizzeremo come colori principali i colori dei fantasgenitori. Come al solito partiamo però con un color burro su tutta la palpebra. Ci permetterà di stendere meglio poi tutti gli ombretti dopo. Rosino come colore di transizione. E adesso andiamo a prendere il fucsia, banda. E vado a posizionarlo alla fine dell'occhio, picchiettando. Risfumo con il pennello sporco del rosa di prima. Aggiungo cosmo all'inizio dell'occhio, brillantinato. Per intensificare il fucsia vado a creare una sorta di linea di eyeliner, picchiettando proprio fucsia. E occhi terminati. Come blush metto un po' di questo rosino qui, che abbiamo utilizzato sugli occhi. Rossettino della stessa collezione della palette. Essendo molto morbido ho delineato i confini con una matita. Lucido. Mascara. E ci siamo. Ecco qui il makeup terminato, devo dire che lo adoro. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se volete altri tutorial e seguitemi su IG se ancora non lo fate.